Ciao a tutti, io sono Mirko, e oggi facciamo una panoramica sui cavi da usare con i nostri droni FPV. I cavi infatti sono una componente fondamentale quando si assembla un drone, e il fatto che ce ne siano di diverse misure può creare confusione a chi si avvicina per la prima volta a quest'hubby. Prima di vedere nel dettaglio le varie misure vediamo quali caratteristiche devono avere i cavi. Prima di tutto il rivestimento deve essere in silicone, tutti quelli che vedete qui, dal più fine al più grosso, sono rivestiti con questo materiale. Il rivestimento del cavo deve essere in silicone per due motivi. Il primo è che questo materiale resiste alle alte temperature, come vedete infatti abbiamo stampato sul cavo il valore di 200 gradi, se usiamo invece altri materiali è molto probabile che il rivestimento si squagli mentre stiamo saldando il filo. Il secondo motivo è che i cavi in silicone sono molto più morbidi e si piegano meglio. Questo è un grosso vantaggio perchè di solito lavorando in spazi molto ristretti riusciamo a gestire meglio tutta la moltitudine di cavi che sono presenti nei nostri droni. Vediamo ora nel dettaglio lo spessore dei cavi. Questo è indicato da un numero più la sigla AVG. Più piccolo il numero più i fili saranno grossi. Per i droni FPV utilizziamo cavi che hanno un range da 12 a 30 AVG. Ho diviso la scelta dei cavi in tre macro categorie, connettori XT60, ESC e motori, VTX, riceventi ed in generale tutte le periferiche che colleghiamo al flight controller. Partiamo con i connettori XT60, la scelta è tra 12 e 14 AVG. Di solito usiamo la sezione più grossa da 12 AVG per i quad ad alte prestazioni, anche se i 14 AVG a mio parere sono più che sufficienti per la maggior parte degli usi. Il vantaggio dei 14 AVG è avere un cavo più semplice da gestire, che a seconda delle build non è una cosa da sottovalutare. Voi scegliete tra 12 e 14 a seconda delle vostre esigenze e di quello che ritenete sia meglio per il vostro drone. Passiamo ora ad ESC e motori. Per quanto riguarda i motori, delle volte può capitare di dover creare delle estensioni perchè il filo è troppo corto. In questo caso il mio consiglio è usare cavi della stessa sezione dell'originale. Di solito sono da 18 AVG, come ad esempio in questo Flywoo, o da 20 AVG come in questo IMAX RS2. Per quanto riguarda l'alimentazione degli ESC singoli usiamo cavi da 18 AVG per quelli fino a 50A. Ad esempio questi T-Motor da 35A hanno dei 18 AVG. Per ESC più grandi, come ad esempio questi Teco 32 da 60A, usiamo cavi più grossi da 16 AVG. Passiamo ora ai cavi più fini che si trovano nelle VTX, videocamere, riceventi, cavi segnali degli ESC e così via. Per questo tipo di periferiche possiamo usare cavi che vanno dai 26 ai 30 AVG. Personalmente la sezione da 30 AVG non mi piace molto, ritengo che il cavo sia troppo fine e di conseguenza si rompa molto facilmente. Non dico che usare questi cavi sia sbagliato, ma comunque una sezione da 26 o 28 AVG dà maggiore sicurezza. E infatti sono queste due misure quelle che si usano di più, come vedete questa ricevente videocamera hanno cavi da 28 AVG, mentre questa VTX e i cavi segnali di questo ESC sono da 26 AVG. Per concludere abbiamo i connettori XT30, qui possiamo usare cavi da 18 o 20 AVG, facendo un discorso simile a quello che abbiamo fatto per i connettori XT60. Quindi riassumendo, per l'XT60 scegliamo tra i 12 e i 14 AVG. Per motori ed alimentazione ESC usiamo tra i 16 e i 20 AVG. Mentre per le altre periferiche scegliamo tra i 26 e i 30 AVG. Questa era la mia guida su come scegliere i cavi da usare con i nostri droni. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video. Grazie a tutti.